Ci apprestiamo a vivere gli ultimi giorni di questo 2024, o meglio possiamo praticamente parlare delle ultime ore di questo 2024 all'insegna della variabilità atmosferica, variabilità atmosferica che ci interesserà anche a Capodanno il primo giorno del 2024. Il fronte polare atlantico inizia pian pianino ad abbassarsi, quindi le cose iniziano moderatamente e lentamente a cambiare. Da valutare poi, proprio per questo fronte polare atlantico che si abbassa, un teorico, ipotetico, peggioramento un po' più corposo che potrebbe avvenire proprio attorno alla Befana, nel giorno della Befana o attorno alla Befana, però sempre collegato alle correnti atlantiche. Per freddo ed eventualmente anche neve sulla nostra regione a quote basse, non solo a quote montane, dobbiamo guardare più a lungo il periodo, il target che abbraccia tra l'8 e il 15 gennaio. Ecco, in questo lag temporale tra l'8 e il 15 gennaio si intravedono dei segnali per un cambio netto della situazione che potrebbe eventualmente portare a diluzioni di aria fredda verso le medio-basse latitudini europee ed anche il Mediterraneo, a quel punto anche l'Italia. Ma ovviamente stiamo parlando veramente di segnali e di proiezione a lungo termine, però è giusto che io vi renda partecipi di questi segnali. Mentre, vi ripeto, per quanto riguarda i prossimi giorni fino alla giornata di Capodanno, variabilità atmosferica senza grosse variazioni nel campo termico con ventilazione nel complesso debole o moderata. Vi auguro un sereno e felice 2024. A presto!